Assoverato il seminario informativo del progetto Reciprocità e Protagonismo Dopo Rosarno, anche assoverato il seminario informativo del progetto Reciprocità e Protagonismo, si rivela un vero successo, curiosità e grande interesse nei confronti dell'iniziativa da parte del numerosissimo pubblico presente l'11 luglio nella sala consigliare del Palazzo Municipale. Un dibattito ricco di contenuti e di spunti di riflessione sul mondo del lavoro e del digitale, moderato dal giornalista Salvatore Condito, nel corso del quale sono intervenuti Suor Carmela Rocca, presidente CIOFSFP Calabria, Caterina Gatto, consigliere comunale di Soverato, Don Ferdinando Fodaro, teologo e direttore del Centro Diocesano Vocazioni, Ernesto Alecci, consigliere regionale, Vittoria Inuso, responsabile progetto Rep, Giuseppina Zancari, responsabile centro per l'impiego di Soverato, Saverio Scarpino, presidente ente bilaterale turismo calabrese, Giacomo Mannino, presidente Lions, Francesco D'Aquino, Mind It Digital, il consigliere regionale Antonio Montuoro, impossibilitato ad intervenire, ha inviato un saluto via mail. Nel corso del seminario sono stati presentati tutti i dettagli del progetto Rep, selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale e Impresa Sociale.